La struttura e la scontola, la traduzione del Signore del Igbo. Le grazie, il Signore è tu, Tu sei benedetta fra le donne, benedetta in tutto in questo senso Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega dai tuoi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amore. Padre Vosso, che è il Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua nuova, come in Cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane e quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma di perdere dal male, amo. Grazie a tutti. Signore, benedici questo cibo e chiediamo ai nostri fratelli, nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Gesù, Gesù. Gesù qualisce ancora alza le mani e lada il Signore canta con gioia, alleluia bati le mani e guida anche tu viva il Signore Gesù alza le mani e lada il Signore canta con gioia, alleluia canta con gioia, alleluia alleluia